Musica Ciao ragazze, nuovo video, nuovo spacchettamento sono arrivate le ultime due cose che io vi avevo già accennato in un altro video della bagund Allora, sono arrivate e volevo farvelo vedere, infatti questo sarà un video molto breve ma semplicemente perché volevo farvi vedere la bellezza di queste due palettine che mi sono arrivate e che volevo ovviamente mostrarvi un po' dal vivo Partiamo dalla più piccolina La più piccolina che cos'è? È una palette di ombretti Eccola qui Sono degli ombretti opachi, uno più bello dell'altro toni molto caldi perché c'erano la possibilità anche di scegliere dei toni un po' più forti tipo il blu, il grigio essendo colori che io non utilizzo spesso ma io utilizzo sempre questi colori così terra bruciata, marrone, naturale ho scelto questo ovviamente se sull'opzione, quando voi cliccate sul sito potete scegliere colori opachi oppure shimmer io ho preso quelli opachi perché sono sempre più comodi poi portando gli occhiali, i colori shimmer tendono ancora a ripicciolire di più l'occhio allora, palette stupenda saranno, so, 3, 6, 9, 12, 18 colori è bellissima è semplicemente bella non mi aspettavo comunque una palette così carina soprattutto con dei prodotti così di qualità da un sito comunque come Bagund ma non perché il sito non sia ottimo perché io non ho mai acquistato make up online perché avevo sempre paura che comunque la foto non rendesse il prodotto invece mi sono dovuta ricredere la Bagund realmente quello che voi vedete quello vi manda quindi acquistate perché veramente poi è un prezzo piccolissimo intorno agli 8 euro quindi diciamo è più che ottimo per una palette comunque così ben strutturata quindi questo è il primo arrivo secondo arrivo una palettona super gigante che ora vi mostro ed è una palette di blush allora io ho problemi con il blush perché essendo olivastra di solito si trovano sempre o i color rosa o i pesca o quelli scuri scuri allora i color pesca su di me non si vedono i rosa mi rendono grigi quelli scuri io li uso per il contouring quindi dovrei miscelare ogni volta tipo due blush diverse quindi che fai ogni volta che magari vai via per lavoro che a trovare mia mamma che faccio vi devo portare 2000 blush dietro invece ho deciso di prendere una palette di modo che posso fare e utilizzare un unico diciamo palette una volta solo quindi per creare il mio blush perfetto per il mio viso e il mio contouring eccola qua sono sei colori vanno da tolgo un attimo la pellicola attenti non non si vede nulla vanno da quello più scuro a quello più chiaro c'è la plastica sì e vi danno la possibilità soprattutto di poterli miscelare poterli comunque ecco qua fatto ora si vede meglio poterli miscelare tra loro e ovviamente poter creare comunque sfumature diverse da qua si vede che c'è un color corallo questo è corallo c'è pesca c'è un colore più chiaro che è un giallo diciamo su base gialla voi la vedete bianca ma è su base più gialla un beige più giallo poi c'è questa qua che è marrone questo è su base rosata e questo poi è un bianco ovviamente questo è come è un illuminante si vede? sì sono uno più bello dell'altro la texture è fantastica io infatti già li ho toccati però mi ero poi ripromessa di non aprirli e non rovinarli più di tanto perché comunque avrei voluto fare diciamo il video e farvelo vedere in anteprima anche a voi però non ho resistito perché sono comunque dei colori fantastici allora questa palette più o meno dovrebbe costare intorno ai 10 euro poi ovviamente io vi lascio tutti i link di riferimento però sappiate che comunque il prodotto è valido io mi sono dovuta ricredere quindi nell'acquistare make up online perché la bagun è uno di quei pochi siti dove realmente quello che vedete quello vi viene recapitato a casa quindi realmente è ottimo come sito poi ovviamente non si pagano le spese disperizioni quindi questo ci invoglia ancora di più ad acquistare ragazze spero che questo video vi sia piaciuto ci siamo tenuti giusto 5 minuti di compagnia perché volevo farvi vedere queste novità ovviamente poi ci saranno dei make up io vi farò vedere anche sul blog le foto nello specifico con tutti i swatch diciamo dei colori e quindi questo volevo solo far mostrarvi i miei nuovi arrivi vi mando un bacio come sempre vi ringrazio perché mi seguite in tante mi lasciate sempre tanti bei commentini anche in pagine quindi io sono sempre molto contenta ovviamente ringrazio la bagun perché mi ha dato la possibilità di provare ancora altri prodotti quindi di dovermi ricredere ancora una volta sullo shopping online vi mando un bacio a presto ciao ciao ciao